Mi chiamo di Marcelli Zarex, ho 14 anni e faccio il ruolo difensore. Daniele Maraglino, 16 anni, centrocampista. Davide Piotto, 16 anni, centrocampista. Siamo in categoria allievi, quindi fino adesso, ok. Carlo Fidanza, 16 anni, centrocampista. Matteucci Vincenzo, 16 anni, centrocampista. Siamo in Belmonte, 16 anni, difensore. Savini Massimiliano, 14 anni, difensore. Giorgiani Andrea, 16 anni, centrocampista. Daniele Schiavoni, Ala, 14 anni. Gian Battista Angelo, 18 anni, attaccante. Amorileva Simone, 17 anni, portiere. Guazieri Luigi, 18 anni, difensore. Qui ci spostiamo invece verso Gimnores, giusto? E Gian Battista Fabio, 18 anni, portiere. Sposito Mattia, 20 anni, attaccante, prima squadra. E Paolo Icheri, 19 anni, difensore, prima squadra. Buonimente Enrico, 19 anni, difensore, prima squadra. Ora, adesso deve andare a presentare i dirigenti. Lui lo avevamo scambiato, anche lui, per un giocatore invece è un dirigente. È un dirigente, giovanissimo. Siamo volutamente saltato l'allenatore della prima squadra, il signor Antonio Fiorile. E' l'allenatore degli allievi, scusate, il signor Marco Colevecchio. Poi presentiamo invece di... Siamo dall'altra parte.